Ogni martedì è dedicato a un tema di approfondimento e oggi parliamo di un'oli essenziale a cui io tengo moltissimo, che ho conosciuto qualche anno fa e che qualcuno già saprà essere uno dei miei oli preferiti. Il suo nome è copaiba, che si ottiene da una pianta che prende il nome di copaifera. Sono degli alberi altissimi, possono arrivare addirittura a 30 metri di altezza e come tutti gli alberi che si elevano in altezza, quindi riescono a cattare l'ossigeno nella sua totale purezza, è uno di quegli oli che possiamo utilizzare senza dubbio per il sostegno del sistema respiratorio. Questo albero cresce nella foresta amazzonica, che è definito anche il polmone del pianeta, perché ricopre all'incirca il 60% di tutto il Brasile, che è una delle nazioni più estese di tutto il Sud America. Durante la stagione delle piogge, che generalmente va da gennaio a giugno, inizia a piovere e il rio si aumenta di portata fino a aumentare di circa 6 metri di altezza. Quindi questi fiumi si riempiono per la fortissima pioggia e rendono accessibili alcune aree della foresta amazzonica in cui poter raggiungere gli alberi di copaifera. Quindi anche l'estrazione di questo olio è limitata al periodo delle piogge, perché solo in questo modo è possibile con la barca raggiungere gli alberi. L'approvvigionamento di questo olio, ne parleremo tra poco, è molto interessante. Conviene ricordare che, è buona cosa ricordare comunque che purtroppo nel Brasile e soprattutto nelle aree rurali dell'Amazzonia, ci sono tantissimi tassi, c'è un forte tasso di povertà. Quindi l'arrivo di doterra per la richiesta di olio essenziale di copaifera ha fatto sì che a livello economico comunque alcune famiglie potessero comunque avere dei benefit da queste piantagioni. Perché ogni famiglia gestisce, che vive appunto in queste regioni dell'Amazzonia, gestisce alcune dozzine di alberi di copaifera da cui si ottiene appunto l'olio essenziale. C'è una sapienza che viene trasmessa di generazione in generazione, dove le persone che estraggono appunto la resina, questa oleoresina, devono osservare l'albero in base alla disposizione dei rami, vanno a individuare quella che è l'avena in cui poter ottenere l'oleoresina. Quindi il fusto viene praticamente inciso con questo strumento fino a far ottenere la goccia di oleoresina. Gli alberi, abbiamo detto che sono altissimi, la quantità di olio essenziale che viene estratta dipende dalla portata della chioma, dal diametro del fusto e questi alberi riescono a vivere fino a 400 anni. Quindi sono alberi molto antichi e l'estrazione viene appunto riservata in questo periodo delle piogge. Ecco, mi sa che abbiamo anche Sabrina. Niente, non ci riusciamo. Quindi da ogni albero si possono estare dai 2 ai 6 litri di oleoresina. Questo è un trattamento, cioè è una pratica praticamente che viene riservata agli alberi di colpaifera e che in realtà servono anche a fortificare il sistema immunitario della pianta. E solo appunto i conoscitori riescono a estrarne la quantità idonea a far sì che la pianta non venga appunto estratta, cioè che l'oreoresina non venga estratta in quantità abbondanti e che possa portare poi un danno alla pianta. E come abbiamo detto, da un litro di olio resina di coppaiba, estratta appunto dall'albero di coppaifera, si ottengono 600 ml di olio essenziale, secondo il metodo della idrodistillazione. Quindi come anche per l'incenso, si riempiono queste camere con dell'acqua che viene riscaldata a temperatura costante fino ad ottenere anche l'olio essenziale. Quindi la resina, sebbene potrebbe sembrare abbondante, perché è quasi del 60%, però diciamo che ogni albero può donare un massimo di 6 litri a seconda appunto dell'età. Quindi è sicuramente un olio molto prezioso e che possiamo usare in diverse modalità che vedremo in questo video. Spero, invece no. Per tempo qualcuno continua ad entrare. Oh, come faccio? Un attimo. Che a volte non mi ricordo come funziona Zoom. A volte non mi ricordo come funziona Canva. Così? Sì. Vediamo adesso. Ok, ecco. Sicuramente la prima modalità di utilizzo è quella affattiva. Possiamo mettere alcune gocce di olio essenziale sul palmo della mano, trofinare e annusare con dei respiri profondi, perché come abbiamo detto ad inizio Zoom, essendo un albero altissimo a livello simbolico ci aiuta a individuare il fatto che mi sei imballato il computer, ovviamente, che quindi fa bene per il respiro. un'altra delle sue proprietà, secondo me è perché la mia tastiera pensa di... un altro modo per utilizzare questo olio essenziale, invece, è per la bellezza della pelle. e la terza modalità d'uso è quella interna, quindi possiamo utilizzare delle capsule vegetali vuote oppure andarle a mettere direttamente sotto la lingua come faccio io. A livello chimico è composto dal 60% di beta-cariofillene, che è una molecola che va a legarsi a dei particolari recettori che si trovano sulle cellule di alcuni sistemi del nostro organismo e che in realtà mandano degli impulsi all'interno della cellula fino ad arrivare al nucleo e a convertire e ad attivare determinati geni. Quindi, come abbiamo potuto vedere benissimo da questo video, l'olio essenziale di Copaiba è, tra i suoi costituenti, quindi il beta-cariofillene, è una molecola che in realtà si lega solamente ai recettori della cellula innescando una cascata di informazioni fino ad attivare la produzione o la disattivazione di alcune proteine, in modo particolare le proteine pro-infiammatorie, quindi le citochine, quindi va a modulare le risposte del sistema immunitario, ma non solo. Perché il beta-cariofillene, che è composto appunto per il 60% all'interno dell'olio di Copaiba, fa parte di quella famiglia molecolare definita cannabinoidi. Cannabinoidi perché in origine furono appunto individuati grazie alla cannabis, che contiene una quantità di diverse sostanze, tra cui il tetraidocannabidiolo, ovvero il famoso THC, che è una sostanza che induce la perdita dell'inibizione, quello che è lo sballo da cannabis, è dovuto appunto al THC. Mentre oggi sempre più sentiamo parlare di CBD come una sostanza naturale, quindi che non ha l'effetto alterativo, diciamo, nel THC, ma che può essere molto utile per la gestione del dolore. In realtà il beta-cariofillene è una molecola che appartiene alla stessa famiglia, ma che non interagisce con i recettori CB1 del sistema nervoso centrale, quindi non induce allo sballo fondamentalmente, quindi è una sostanza del tutto legale e abbassa di molto il rischio di andare in contatto con accidentali presenze di THC nei prodotti appunto, ad esempio, dell'olio di cannabis. Quindi il beta-cariofillene fa parte della stessa famiglia dei cannabinoidi, però ha una funzione molto differente, perché va a legarsi solamente ai recettori CB2 del sistema endocannabinoide che sono localizzati sulle cellule del sistema endocrino, del sistema immunitario e del sistema nervoso periferico. Questo perché oltre al nostro sistema respiratorio, che già conosciamo con il suo albero bronchiale, polmoni, eccetera, eccetera, il nostro organismo contiene in sé un altro tipo di sistema definito appunto endocannabinoide. È un sistema dell'organismo importantissimo perché regola l'umore, il controllo delle forme fisiche, quindi la forma proprio che abbiamo nel nostro corpo, la funzione immunitaria, quella riproduttiva e della fertilità, la sensazione del piacere e del dolore, regola le funzioni della memoria, la temperatura corporea, i cicli circadiani, ovvero le ore di veglia e di sonno, e le funzioni digestive e la sensazione di fame. Quindi, seppur magari non ne abbiamo mai sentito parlare nelle puntate delle idee, conosciamo il corpo umano, dove vedevamo tutti quei buvazzetti del sistema immunitario, del sistema respiratorio, nessuno ci aveva mai parlato del sistema endocrino, in realtà spero che questa zoom o la registrazione di questo video possa permetterti di conoscere anche questo aspetto, che è un sistema composto esclusivamente da un modello chiave-serratura, dove le chiavi sono le molecole che generano lo stimolo e le serrature sono i recettori che sono presenti all'interno delle cellule di cui abbiamo detto prima, del sistema nervoso centrale, periferico, endocrino, eccetera, eccetera. Quindi ha una funzione importantissima il sistema endocannabinoide ed è per questo che riusciamo anche a comprendere quanto è importante il Copa Iba per la nostra vitalità quotidiana. Dal mio punto di vista, io sono rimasta folgorata da quest'olio essenziale quando ci è stato presentato dal dottor Hill, uno dei fondatori di Doterra. Mi pare che eravamo a Milano in un convegno, in cui appunto ci veniva spiegata tutta la scienza che c'è dietro all'olio essenziale e mi sono subito innamorata del Copa Iba, tant'è che non vedevo l'ora che arrivasse a casa e quando l'ho stappato, adesso non ce l'ho qui con me perché sono fuori casa, non so se qualcuno ce l'ha, l'ho portato al naso e aspettavo di sentire il profumo. Perché a differenza della menta piperita, che basta anche avvicinare il flaconcino sigillato al naso per sentirne l'odore, il Copa Iba ha un aspetto olfattivo molto molto delicato. Al gusto è amaro e quando ho conosciuto quest'olio essenziale, io ero ancora una consulente aziendale, facevo 350 chilometri al giorno e praticamente arrivavo a casa totalmente sfinita. Uscivo la mattina, facevo tutte le mie tappe all'interno delle aziende che seguivo, lavoravo su diverse regioni e tornavo a casa che non avevo nemmeno più la forza di accendere il bottone della lavatrice per fare la biancheria. Quindi parliamo di una stanchezza veramente, non so quanti di voi già hanno vissuto momenti del genere dovuto al sovraccarico di lavoro, ma era veramente difficile godermi il rientro a casa, con il mio fidanzato, in cucina, eccetera, eccetera. Quindi fiduciosa ho iniziato a utilizzare il Copa Iba, mettendone due gocce sotto la lingua la mattina e due gocce sotto la lingua la sera e quello che ho notato nei primi giorni è stato proprio il fatto che io arrivassi a fine giornata con l'energia sufficiente per fare tutto quello che avevo in programma di fare, sia dalla biancheria o i progetti in casa o magari le nostre Zoom, perché all'epoca eravamo proprio agli esordi delle nostre condivisioni sugli oli essenziali. Quindi il Copa Iba per me è stato, non so come dirlo, però è stato un olio che mi ha permesso di godermi veramente l'intere giornate, anche quando lavoravo tantissimo in auto e mi spostavo e facevo molti viaggi. Quindi dal mio punto di vista mi ha aiutato tanto per l'energia e quello che ho avuto l'impressione è proprio il fatto che non dà energia e vitalità, ma aiuta l'organismo a calibrare questa forza, perché magari uscivo la mattina a bomba, quindi subito in macchina con tutta l'energia del sonno e poi dopo però arrivavo spompata a fine giornata. Quindi quello che ho notato in realtà secondo me è che il Copa Iba riusciva a modulare questa mia energia vitale durante tutta la giornata per arrivare la sera e fare tutto quello che desideravo di fare. In realtà c'è una storia antica riguardo il Copa Iba, conosciuto appunto tantissimo in Brasile, è perché si dice che prima dei 50 anni gli uomini sono fili dell'uomo, dopo i 50 anni gli uomini sono fili del Copa Iba e questo fa intendere anche come questo olio essenziale possa dare un'energia virilizzante nelle funzioni riproduttive dell'uomo in modo particolare. E il Copa Iba possiamo utilizzarlo ad esempio per fornire supporto epatico ed antiossidante, perché il beta cariofillene e gli altri componenti del Copa Iba riescono a stimolare nel fegato la produzione di glutatione. Il glutatione è la molecola antiossidante più potente che esiste in natura e che è prodotta dal nostro fegato. Proprio come funzione depurativa per contrastare l'azione dei radicali liberi che vengono prodotti durante il metabolismo cellulare eccetera eccetera e ci sono molti integratori che mettono all'interno di capsule o soluzioni il glutatione ma non potrà mai essere potente come quello che è il glutatione prodotto dal nostro organismo. Quindi il Copa Iba riesce proprio a produrre la genesi epatica del glutatione, promuove la salute cardiovascolare, sostiene la risposta immunitaria perché abbiamo detto andare a stimolare proprio le cellule del sistema immunitario attivando o disattivando la produzione di citochine proinfiammatorie e offre un sano supporto digestivo. Supporta la corretta funzione neurologica, questo perché comunque agisce prevalentemente sul sistema nervoso periferico, incoraggia una corretta funzione respiratoria perché abbiamo detto come tutti gli alberi che si sviluppano in altezza ci aiutano a comprendere anche a livello simbolico che ci permettono di respirare meglio e apportare una corretta quantità di ossigeno e per chi ha problemi di connessione tranquilli perché vi manderemo comunque la registrazione. vi lancia l'umore e rendisce la pelle irritata. Quindi se avete domande sul Copa Iba, sui suoi benefici, mi raccomando scrivete in chat. Quindi il Copa Iba è disponibile in due formulazioni, l'abbiamo viste prima, oppure in un flacone da 15 ml da poter utilizzare praticamente anche in diffusione, sotto la lingua, sulla pelle, in un formato molto pratico, oppure nella sua versione touch. Quando noi abbiamo un prodotto touch vuol dire che è diluito con olio frazionato di cocco e questa formulazione, l'aggiunta dell'olio frazionato di cocco, contrariamente a come magari si può immaginare che diluire un olio vuol dire riceverne un effetto più blando, in realtà quando noi utilizziamo un olio essenziale abbinato all'olio frazionato facciamo altro che prolungarne l'effetto sulla zona. Quindi quando posso utilizzare il Copa Iba touch? Quando magari ho un effetto, una sensazione di dolore localizzata e voglio magari far sì che l'olio agisca più a livello della pelle, perché rallenta proprio l'assorbimento a livello del sangue. Oppure un altro modo per utilizzarlo a livello touch, quindi nella formula già da utilizzare solo ed esclusivamente sulla pelle, è per le funzioni estetiche. Un feedback che ho ricevuto da una mia amica, ad esempio, è che lei tutte le mattine fa così col Copa Iba e dice che ha notato proprio che il doppio mento è meno visibile, quindi questo perché riesce comunque a preservare comunque e a nutrire le fibre del collagene, diciamo così. Quindi è disponibile in questi due formati e ritroviamo l'olio essenziale di Copa Iba anche in altre preparazioni di doTERRA. Una l'abbiamo conosciuta bene il mese scorso perché è stato uno degli oli che abbiamo potuto ricevere in regalo come prodotto maggio del mese, che è la miscela Rescure, quella che noi abbiamo definito essere la miscela antidolorifica per i più piccoli. Tant'è che questa miscela, oltre a contenere il Copa Iba, contiene la menta dolce, il coriandolo e altri oli essenziali che possono essere molto utili per i più piccoli quando magari cadono, si spaventano, si fanno male per quello che si chiama Rescure, ma va bene anche magari per i neonati che magari piangono perché stanno spuntando i primi dentini è possibile mettere un po' di miscela sul polpastrello e andare ad applicarla direttamente sulla zona dolorante del piccolino. Quindi va bene per tutti i tagli, situazioni dolorose come ad esempio i bernoccoli dovuti a una brutta caduta, possiamo andare a mettere Rescure in totale sicurezza anche per l'utilizzo dei più piccoli. Un'altra soluzione in cui trovare il Copa Iba è il Deep Blue Stick che abbiamo imparato ad amare nel corso degli ultimi mesi perché in questo formato appunto stick che contiene il Deep Blue è essere già la miscela del dolore abbinato al Copa Iba. Questo perché il Copa Iba ha anche una potentissima azione antidolorifica. Mi pare, non so se Marco vuole attivare il microfono perché non sono sicura, che Emanuela mi raccontava che nel tuo studio una delle tue collaboratrici magari era una mattina che mi pare aveva il mal di testa, mi mise sbaglio. Sì, ciao. Noi guardalo, io adesso sono nel mio studio e ce l'abbiamo proprio qui sulla mensolina, a parte che questi giorni ho realizzato e quello qui è qui sulla mensolina proprio il Copa Iba. Anche io questa sera credo che lo prenderò sotto la lingua perché ho avuto una giornata un po' movimentata. Sì, finisco a fare le mie cose perciò diluirò un po' di Copa Iba e Wintergreen, lo metto locale, poi il Copa Iba lo metterò sotto la lingua. E senti, come l'aveva utilizzato? Mi pare che Emanuela mi raccontava, ma non vorrei ricordarmi male, che una tua collaboratrice aveva del mal di testa? Sì, aveva del mal di testa, aveva e gliel'ho fatto mettere sotto la lingua, gliel'ho fatto mettere e poi dopo gli avevo messo una goccina di Copa Iba e di Wintergreen un po' dietro al collo e sulle tempie. Però forse lei, secondo lei, gli aveva fatto proprio l'effetto, diciamo, quello che lei aveva ingerito. Sicuramente è anche una combinazione. Quindi comunque è riuscita anche a ridurre la sensazione di dolore, giusto? Sì, sì, sì. In quanto tempo più o meno ti ricordi? Beh, guarda, perché lei nel giro di un'oretta, era un sabato, poi nel giro di un'oretta mi aveva detto che aveva risolto comunque la situazione. Anche io una sera l'ho fatto a mia madre che sta affrontando un periodo un po' difficile a livello fisico e psicologico con sua madre che comunque è malata, perciò fanno dei turni, perciò il lavoro. E una sera stava proprio K.O. e avevo fatto una miscela con dell'olio vettore, avevo messo del Copaiba, poi avevo messo del Winterin e dell'eucalipto perché si sentiva un po' chiusa e gliel'ho messa sulle tempie, nella spina dorsale, sotto i piedi e sul petto. Poi dopo gli ho fatto prendere due goccettine di Copaiba sotto la lingua e lei mi ha detto che quella notte è riuscita a fare un sonno profondo, cosa che era una settimana che faceva un po' di bizzef, cioè non riusciva comunque a riposare. Perciò mi ha detto che quella notte comunque aveva fatto un sonno diciamo ristoratrice, perciò si era un po' diciamo rilassata. Si era goduta al riposo. Si era goduta al riposo. Che poi a volte quando siamo stressati la difficoltà è proprio quella di non riuscire a dormire bene e quindi ci svegliamo più stanchi di quando eravamo andati a dormire e non è un caso che appunto il Copaiba sia contenuto anche nella viscela Adaptive che è una formulazione specifica per la gestione dello stress. Quindi dona un'elevata resistenza ai forti livelli di stress per aiutarci a renderci più adattabili al contesto. È stato fatto anche uno studio dove ad esempio hanno visto che i ragazzi danno prestazioni ottimali nei test scolastici con l'utilizzo dell'Adaptive proprio perché riducendo lo stress riescono a dare il meglio di quanto riescono ad apprendere durante i periodi scolastici di studio. Roberta ci chiede in chat se pensiamo che possa aiutare nel sonno assolutamente sì grazie anche al feedback di Marco ma questo dipende anche da come noi abitiamo gli oli essenziali. Ad esempio mi ricordo che un giorno dovevo affrontare un corso di formazione in un'aula che non è che mi spaventava però non ero molto serena e dovevo affrontare un lungo viaggio e mi ricordo che ho quest'ansia di oggi perché non mi rendo conto e allora metto una goccia di copaiba una goccia di lavanda sul palmo della mano e faccio dei respiri profondi e praticamente in auto io avevo sonno quindi ero appena svegliata ma avrei comunque dormito mi ero aveva calmato talmente tanto che io sarei tranquillamente potuta tornare a dormire quindi è importante la combinazione degli oli poi ovviamente lì per lì mi è bastato annusare un po' di menta piperita che mi fa lo stesso effetto del caffè quindi mi tiene sveglia concentrata lucida mentalmente però in quel momento ero talmente agitata che volevo calmarmi e forse mi stavo calmando un po' troppo nel senso che stavo per andare a dormire è anche consigliato per le allergie assolutamente sì allora vediamo un po' perché quando c'è una domanda magari mi viene in mente qualche storia qualche esperienza non so se c'è Rita però qualche giorno fa la sono andata a trovare in Ancona dove c'era il suo giardiniere appunto che un giorno era stato appunto dalla Vespa quindi nel momento in cui ero a telefono con Rita per altre cose entra Franco e fa Rita non era una Vespa mi pare che era un volatile molto pericoloso che adesso non mi ricordo il nome e le aveva appunto proprio sulla chiappa e al telefono con Rita mi fa che cosa posso cosa posso usare abbiamo usato la miscela antistaminica quindi una goccia di lavanda una di menta una di limone più copaiba e il copaiba gliel'abbiamo anche fatto ingerire e l'ho rivisto l'altro giorno Franco mi ha detto guarda mi hai salvato la vita perché comunque è una persona che ha secolarità no? sì era era un calabrone è un calabrone e comunque ci diceva anche Franco che lui è soggetto alle crisi allergiche c'è una sorta di predisposizione allo shock canafilattico non so cosa ci aveva detto però ecco questa formulazione menta lavanda e limone più copaiba diciamo che io il copaiba lo uso quasi sempre abbinato a qualsiasi altra miscela perché va a lavorare in una maniera talmente ampia talmente vasta con appunto questi recettori cellulari che si trovano su quasi ogni parte del nostro corpo che diciamo è uno degli oli che in assoluto utilizza di più nelle modalità che abbiamo visto e quando ho conosciuto questo olio essenziale uno studio del dottor Hill mi fece rimanere praticamente con gli occhi aperti che si ricollega anche alla domanda di Lenia sulle reazioni allergiche perché uno studio ha dimostrato per la prima volta un effetto immunomodulatore dell'olio di Copaiba sui mediatori dell'infiammazione quindi anche durante le crisi allergiche comunque durante i processi appunto allergici sono fattori che entrano in gioco con gli infiammatori ok e inoltre dice considerano l'olio di Copaiba un prodotto naturale promettente per il trattamento delle malattie infiammatorie e demielinizzanti cosa vuol dire demielinizzanti la mielina è una guaina che riveste i neuroni del del nostro organismo quindi noi abbiamo un corpo un assone che può essere di una lunghezza variabile nel nostro organismo abbiamo neuroni che sono lunghi anche un metro un metro forse no mezzo metro settanta centimetri e per per trasmettere il segnale in maniera veloce il nostro organismo ha adottato questo sistema ha fatto una sorta di isolante una guaina ammianilica che permette il passaggio dell'impulso elettrico per trasmettere le informazioni al sistema muscolare locomotore eccetera eccetera e quindi quando ho letto questo studio o meglio quando il dottor Hill ci ha presentato questo studio poi lo sono andata a leggere questa parte mi ha colpita perché quando utilizzi gli oli essenziali capisci il potere che hanno e non vedi l'ora comunque di parlarne alle persone che possano averne più o meno bisogno c'era Gabriella una delle nostre amiche che aveva veramente bisogno di questo olio essenziale e per farvi capire il potere per farvi capire il potere degli oli e la loro efficacia non abbiamo mai registrato testimonianze del nostro gruppo sull'uso del Copaiba abbiamo tante feedback all'interno della nostra chat di Telegram infatti potete scrivere Copaiba e andare a leggere tutti i messaggi di esperienze positive per il mal di denti per la gestione del dolore anche per il fatto che il Copaiba aiuta a ridurre la formazione di calcoli renali perché chi produce tanto acido urico può essere utile utilizzare il Copaiba perché abbassa appunto la produzione di acido urico e quindi la formazione dei calcoli renali però ci sono tante altre persone nel mondo che utilizzano gli oli do terra e volevo condividere con voi un video forte ma che comunque è disponibile su Instagram quindi se volete potete andare a ricercare io ve lo riporterò in questo video e ovviamente non ha nessuna nessuno scopo curativo medico o che lì si voglia l'unico obiettivo appunto è quello di informare perché quello che è successo a me ad esempio è che io soffrivo di cistiti se nessuno mi avesse mai parlato degli oli probabilmente oggi stare ancora facendo i conti con quel disagio mentre conoscere che una soluzione naturale esiste per me ha fatto la differenza e questo è lo scopo di tutte le nostre zoom e serate di approfondimento e per questo motivo voglio condividere con voi un video di una ragazza che seguo su Instagram e che vi riporto in questa slide di questa donna vediamo se riusciamo a far partire il video se voi sentite anche l'audio no l'audio no io non lo sento ok un attimo che lo condivido comunque come si fa io l'ho sentito bassissimo prova ad alzare il volume io invece lo sento sparato nelle orecchie perché ho le cuffiette e condividi l'audio del computer comunque questa è una donna che soffre di tremore alle mani scusate massaggia un po' di olio essenziale sulla mano e nell'arco di qualche secondo bellissimo mi piace questo video perché proprio anche nella voce di chi sta registrando si sente l'emozione ed è esattamente quello che noi proviamo tutte le volte che con fiducia utilizziamo un olio e sorprendentemente rimaniamo a bocca aperta dei suoi risultati quindi lei quindi lei una dei sostenitori del benessere di do terra la ragazza che ha registrato il video che sta sempre con il telefono in mano io la invito tantissimo per quello perché noi invece prima siamo gli oli poi adesso faccio il video però ecco dovremmo anche noi avere la prontezza ogni tanto di documentare ogni volta il prima e il dopo dell'utilizzo di un olio essenziale perché nella nostra community di telegram può essere uno strumento importante per capire come utilizzare gli oli per ottenere uno specifico risultato quindi questo video è estremamente diretto sia per i benefici ma anche per le modalità d'uso abbiamo visto come una goccia un paio di gocce di copaiba massaggiate sulle mani di questa donna riescono a trasmettere una sensazione alla donna di rilassatezza fondamentalmente ma non solo questo quante volte al giorno va somministrata la miscela antistaminica possiamo dire mattina e sera generalmente gli oli possiamo utilizzarli dalle due alle tre volte al giorno se ci sono situazioni in particolare che vogliamo trattare quindi questo video a me piace molto l'ho voluto condividere con voi in questa in questa zoom per chi ancora non si è avvicinato al mondo degli oli perché magari chi già li conosce sa il loro potere e la loro velocità in tempi veramente veloci Federica invece ci scrive in chat se vuoi puoi anche attivare il microfono Fede perché è molto curioso come tu utilizzi il Copa Iba con White perché White ha un problema alle zampe posteriori che è un cagnolino un cagnolino sì e quindi glielo do tutte le mattine e tutte le sere una goccia alla mattina nei croccantini e una goccia alla sera nei croccantini per aiutarlo nelle articolazioni perché lui è nato con una problematica quindi insomma cammina a modo suo le zampine posteriori rigide paralizzate quindi per dargli un sostegno gli do il Copa Iba e devo dire che funziona benissimo perché io lo vedo tutti i giorni però quando incontro le persone per strada che magari non lo vedono tutti i giorni mi dicono ma come lo vedo bene ma si muove meglio ma che cosa è successo probabilmente sarà l'olio essenziale di Copa Iba cioè questo è proprio proprio così ogni persona che lo incontra ogni volta mi dice ma lo vedo sempre meglio e quindi insomma io da quando ho scoperto l'olio essenziale di Copa Iba oltre ad usarlo per me anche per lui ormai è un'abitudine una sana abitudine mattina e sera oltretutto lo apprezza perché io lo prendo una goccina sotto la lingua la sera perché mi distende e lo trovo molto amaro anche se lo adoro il profumo del Copa Iba io mi ci farei il bagno invece lui proprio spazzola via tutto e quindi insomma adesso che hai detto questa cosa Fede mi hai fatto tornare in mente una cosa a parte che vabbè è bellissimo a parte che voi dovete sapere che Federica fa dei video bellissimi su come utilizzare gli oli in cucina quindi li aggiunge non solo ai suoi piatti ma anche ai croccantini di White esatto mi hai fatto tornare in mente una cosa che l'olio essenziale di Copa Iba è stato scoperto proprio dagli animali quindi quando tu dici lo apprezza subito mi è tornato il flash di come è stato scoperto come è stata scoperta sono stati scoperti i benefici dell'olio resina di Copa Iba dove praticamente l'uomo aveva notato che gli animali feriti andavano a scorticare appunto il fusto degli alberi di Copa Ifera per poter mettere la pelle danneggiata e ferita a contatto con questa oleo resina quindi è assolutamente mi vorrebbe dire divino il fatto che comunque gli animali riescano comunque a percepire il potere così forte di alcune soluzioni naturali ma infatti quando tu appunto raccontassi questa cosa io mi si proprio accese la lampadina ho detto ma provo ad approfondire l'argomento perché insomma che molti lo sanno che io a parte essere amante degli animali utilizzo tanto gli oli essenziali sui miei cani e proprio questa cosa mi spinse questa cosa che appunto hai raccontato adesso mi spinse ad approfondire no? l'argomento di Copa Iba sugli animali e quindi è noto quest'amore anche White Copa Iba perché secondo me è un olio essenziale che non si può non amare proprio è talmente ricco di proprietà ma il profumo stesso a me dà proprio una sensazione di benessere solo a sentire il profumo del Copa Iba bellissimo comunque se qualcuno ha esperienze di condivisione che vuole condividere appunto questa sera che parliamo in modo specifico del Copa Iba siamo tutti orecchi nel senso attivate il microfono e vi passo la parola quindi se volete vi invito ad andare a seguire questa ragazza che dà comunque dei buoni consigli io l'ho usato sulla cicatrice della spalla quando mi sono operata e secondo me è fantastico al di là dell'incenso e della lavanda il Copa Iba per le cicatrici è molto molto vantaggioso insomma usarlo quindi tu che hai fatto l'hai applicato direttamente lì sulla ferita io sì sì cioè una goccia diluita sempre con olio vettore due volte al giorno sulla cicatrice sì sì ok quindi molto benefico aspetta che sto che come dite qualcosa mi ricollego a qualcosa che ho letto però non sono sicura quindi non vuole dire una cavolata perché mi ricordo di uno studio di PubMed che diceva di come alcuni oli essenziali riuscissero a riattivare i fibroblasti si parlava di elicriso di Langilang che tra l'altro sono due oli essenziali che contengono seppur in piccola parte anche loro il beta cariofillene quindi questa sostanza di cui abbiamo parlato contenuta per buona parte nel Copaiba e che è presente anche nell'elicriso nell'ilangilang e nel pepe nero quindi grazie anche a te lì per il tuo feedback Roberta dice non conoscevo il Copaiba anche se ce l'ho vi ringrazio per il vostro feedback proverò per il sonno facci sapere Roby come va se sei nella nostra chat telegram mandaci un feedback e io voglio dare la parola a Barbara che vedo che ha attivato il microfono mi stavo cercando una foto di un occhio dove ho utilizzato un occhio era appena tutto in emorragia praticamente perché la persona in questione stava ricevendo un insetto un grosso insetto non so se è un'ape o una vespa in direzione dell'occhio che lui l'ha visto o si è sentito pungere non lo so comunque si è tirato una manata sull'occhio e quindi si è colpito e nella confusione non so non ho detto senti io mi sono colpito non so neanche se mi appunto questo insetto però c'è dolore immagino di fatto che aveva l'occhio rosso pieno di sangue quindi subito gli ho utilizzato l'elicriso è venuto a casa sapendo insomma i benefici degli oli che ho usato su di lui per altre cose e quindi ho detto aiutami perché ho quest'occhio che è elicriso subito e dopo venti minuti gli ho messo il copaiba e basta e l'incenso e hai fatto una foto dicevi? sì ho fatto una foto non so se si riesce a vedere sì sì si vede sì questo era già il giorno dopo perché è venuto il pomeriggio di domenica e poi non gli ho fatto subito la foto per il motivo che dici tu perché insomma comunque era anche era il mio compleanno sì era il giorno il giorno prima del mio compleanno il giorno prima ventisette il ventotto è tornato ed era molto meno chiaro e poi la terza non gliel'ho fatta ma è venuto da me lunedì quindi venerdì sere è arrivato sabato domenica lunedì l'occhio era bianco era pulito tornato normale ma tu la miscela gliel'hai preparata tipo in un roll-on che lui poteva no 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 perché lui è venuto subito dal lavoro è un contadino andava di corsa stava così quindi è venuto il giorno dopo a farsi a farsi passare ok ha fatto tre giorni poi gli ho lasciato praticamente una piccola boccetta ma la miscela è elicriso una goccia una goccia una goccia per un occhio insieme a un burro a un unguento che ho preparato io è un unguento fatto con questo oliolito di camomilla e poi ci ho messo dentro il il palmarosa ed è un unguento l'ho utilizzato giusto come vettore per massaggiarglielo bene tutto intorno all'occhio e pizzettato picchettato sulla parte questo diciamolo Barbara che quando magari utilizziamo gli oli vicino alle aree sensibili come appunto gli occhi possiamo tenerci a distanza di un centimetro possiamo dire indicativamente picchietto picchietto l'olio con veramente pochissimo olio diluito sul dito lo picchietto sulla palpebra poi il resto lo applico esternamente in caso dell'occhio sì perché dobbiamo appunto fare attenzione a utilizzare gli oli magari nelle zone più delicate poi ci sono oli delicati come il copaiba l'incenso che vanno benissimo da applicare sulla intorno agli occhi anche in maniera tranquilla mentre ci sono anche altri oli come ad esempio il copaiba la menta piperita che mi ricordo una volta stavo utilizzando sulle tempie e praticamente una folata di vento fece arrivare delle molecole nell'occhio di Lorenzo il nostro amico e questo praticamente inizia da lacrimare poverino però alcuni oli sono molto forti quindi ad esempio con la menta quando la avviciniamo al naso è meglio tenere gli occhi chiusi proprio perché quello invece è un olio molto forte la sera invece mi hanno chiamato che poi è una ragazza che conosciamo anche nel nostro team è caduta ha fatto una grossa distorsione al ginocchio e gli si è gonfiato quindi gli ho detto di mettere subito la deep blue il winter green successivamente massaggio all'usturo con il copaiba e anche gli ho consigliato l'uso interno quindi domani vediamo però insomma per le articolazioni funziona benissimo il copaiba benissimo qualcuno parlava di a mano diceva bellissimo video penso che lo farò provare a mia suocera per i romatismi quindi potrebbe andare bene giusto Barbara? assolutamente sì anche l'altro giorno l'ho utilizzato per una risoartrosi alla pollice e la ragazza ha detto non stavo così bene da vabbè oltre al trattamento manuale per carità cioè ci sta però l'olio che ho utilizzato oggi l'aromataccio la settimana scorsa è il copaiba questo perché può essere l'olio essenziale un potenziatore del trattamento che può essere manuale o altri tipi di trattamento nel mio caso sì comunque lei diceva non stavo bene così non risentivo la mano da circa quattro mesi non la risentivo mamma mia ottimo l'ho vista l'ultima volta qui a Cisterino in Puglia l'ho vista ad aprile Pasqua quindi ha fatto ultrasuoni ha fatto un sacco di terapie suona anche la chitarra quindi comunque è una ragazza che usa la mano tantissimo però ahimè ha questa problematica quindi lì c'è o l'intervento o il saper supportare in qualche modo la mano infatti ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima che l'importante è conoscere gli oli poi ognuno può individuare se può essere la soluzione ottimale o meno quindi gli oli non sono per tutti sicuramente averli e lasciarli a prendere la polvere su uno scaffale è uno spreco grandissimo che io non auguro nessuno appunto di avere gli oli lì fermi senza poterli usare però a volte può succedere gli oli arrivano nella nostra vita quando magari siamo pronti ad usarli e magari stanno lì per un po' finché non ci ricordiamo di usarli e poi le nostre vite prendono tutta un'altra piega quindi sicuramente il nostro obiettivo è far conoscere e poi però sta a voi mettere in pratica quelli che sono i nostri consigli ovvero quello che tramandiamo come esperienza Rita ci chiede cosa si intende per olio vettore c'è una distinzione tra olio essenziale che è la componente volatile della pianta mentre per olio vettore parliamo dei veri e propri acidi grassi fondamentalmente che ritroviamo ad esempio nell'olio d'oliva olio di semi olio di mandorla noi Edoterra ci consiglia di usare l'olio frazionato di cocco per una questione di odore essendo un olio vettore che non ha un aroma suo anzi se avete acquistato un olio di cocco e sentite il profumo di cocco attenzione perché l'olio essenziale perché il frutto del cocco non ha l'aroma di cocco quello generalmente è sintetico quindi riformulato per farci ricordare a livello di memoria il profumo del latte di cocco quello sì e l'olio non ce l'ha odore non ne ha quindi io consiglio sempre di utilizzare degli oli che siano almeno alimentari perché dal momento in cui una sostanza è alimentare vuol dire che posso essere sicura anche per utilizzarlo internamente Stefania ci dice io sapevo che il copaiba è un olio adatto per le cicatrici dell'anima e in quelle situazioni in cui abbiamo bisogno di schermarci dalle energie negative grazie mille Stefania per la tua condivisione anche perché ho dimenticato di mettere l'aspetto emozionale dell'olio essenziale di copaiba quindi grazie veramente tanto per questo messaggio questo commento e quindi gli oli possono fare veramente tanto la cosa bella è che gli oli do terra non fanno bene solo a le nostre emozioni come abbiamo appena letto dal messaggio di Stefania al nostro fisico come abbiamo appena potuto vedere dal dal video ma ogni volta che utilizziamo un olio essenziale do terra possiamo portare benessere anche nella vita degli altri questo perché do terra è una cooperativa che distribuisce non solo gli oli essenziali della migliore qualità attualmente presenti in commercio ma anche perché e soprattutto ha un mercato di approvvigionamento sostenibile non solo per il pianeta terra ma anche per le persone che si occupano della raccolta e della distillazione degli oli essenziali ci sono tantissimi progetti che noi sosteniamo con l'acquisto degli oli essenziali di do terra ad esempio questi sono stati gli interventi che do terra ha portato in amazzonia dove come abbiamo potuto anticipare anche all'inizio sono delle regioni al confine del rio dell'amazzoni quindi molto difficili da raggiungere non ci sono centri urbanizzati e in alcuni luoghi non ci sono propri servizi base quindi do terra dal 2019 fornisce una clinica mobile con dei dentisti che riescono a fare delle tappe non mi ricordo se erano sette tappe l'anno l'avevo letto un articolo ma adesso non sono andata a ricercarlo fondamentalmente dove fornisce delle cure dentari ai villaggi e le comunità che vivono in queste zone e che vivono di alberi di Copaiba circa 3000 sono le vite supportate ogni anno in termini di coltivatori e approvvigionatori quindi persone che hanno e famiglie che hanno quel piccolo gruzzoletto di alberi da gestire che erano fondamentalmente in mano a speculatori perché essendo comunque una popolazione cioè una regione del mondo tra le più povere è un attimo io grande azienda vado lì e sfrutto la mano d'opera e depaopero tutto quello che è la naturalezza Doterra invece va lì a sostenere queste comunità vai Barbara hai parlato proprio dell'intervento che fanno lì in Amazzonia perché il Copaiba leggevo che è in grado di inibire o comunque rallentare e abbattere quindi la carica batterica dello stafilococco aureo che è proprio il precursore della caria delle carie mi ha anche fatto tornare in mente una cosa di un altro articolo che stavo leggendo tempo fa di come il Copaiba può essere aggiunto al colluttorio perché sembrerebbe ridurre la formazione del tartaro quindi assolutamente sì va benissimo anche per l'igiene orale e questi interventi sono stati forniti dall'Uterra ma possiamo dire anche da noi con il nostro supporto per far arrivare quei servizi sanitari laddove non ci sono appunto dei centri sanitari adeguati anche nel 2020 sono stati spediti 18.000 dollari di pacchi alimentari e nel 2021 addirittura l'Uterra ha donato delle attrezzature mediche e unità sanitarie per la gestione dell'emergenza Grace in chat ci scrive l'ora essenziale di Copaiva molto bene messo puro sull'emorrodi per per il vaccino del tetano ok sì anche no del virus del tetano sì scusami vi puntato un attimo sì infatti mi ha mi ha proprio colpito questa cosa perché io ne ho presi tanti vaccini antitetano antitetaniche esatti tante antitetaniche e e dopo sono stata molto male quindi quando ho visto questa cosa che Copaiva può fare anche questa azione ho detto wow prossima volta mi affiderò completamente al al Copaiva perché non ho assolutamente intenzione di farne un'altra di antitetanica ecco perché mi ferisco spesso le mani sono un maschiaccio faccio faccio delle robe insomma ecco quindi adesso sono protetta anche da questo punto di vista quindi e poi posso confermare anch'io proprio un quel risparmio energetico dalla mattina fino alla sera tardi per riuscire a fare tutto quello che insomma dovevo fare e anche anche i pensieri che la concentrazione la memoria insomma che grazie a Copaiva era migliorata ti ha visto proprio quel switch bello 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 ho detto dall'inizio che è uno dei miei preferiti mi piace tanto usarlo non a livello fattivo come vi dicevo perché non ha per me nulla di attraente o come magari il passion però mi piace molto usarlo perché lo sento cioè sento che mi apporta un benessere quando ci hanno spiegato questo olio ci hanno ce l'hanno fatto immaginare come quando magari la mattina a seconda di com'è il tempo sappiamo se prendere l'ombrello oppure no quindi magari guardiamo fuori diventiamo uggiosi eccetera eccetera e l'olio di copaiba è come se dicessero le nostre cellule che fuori c'è sempre il sole quindi permette ad ognuna di lavorare nel massimo dell'energia dell'ottimismo delle condizioni ambientali favorevoli quindi ce l'hanno spiegato proprio così se non ricordo male visto che sono portati un po' di anni però è uno degli oli che adoro di più in assoluto e quindi ci tenevo a dedicare una zoom esclusivamente a questo olio essenziale poi per chi è neofita ricordiamo che gli oli essenziali nascono per garantire la sopravvivenza della pianta e far fronte ad ogni evenienza della vita e che gli oli sono talmente potenti da arrivare fino in alcuni casi anche al nucleo al cuore della cellula quindi è importante utilizzare sempre degli oli essenziali di qualità noi abbiamo scelto di utilizzare gli oli da terra perché oltre a fornirci il numero di lotto sotto il flaconcino e quindi vedere quelle che sono le molecole contenute all'interno ricordiamo anche che per chi non mastica la chimica oltre a leggere le molecole che può sembrare comunque un elenco abbastanza noioso nella parte bassa del file che noi possiamo andare a visualizzare mettendo il numero di lotto del nostro olio all'interno del sito c'è proprio il risultato quindi in questo caso ci dice le analisi di questa melissa che ho preso come esempio rilevano che non ci sono contaminazioni o adulterazioni ok poi dice che è un un olio ottenuto dalla melissa officinalis eccetera eccetera quindi in realtà c'è anche tra i commenti il risultato del test del gas cromatogramma che è appunto questa analisi la loro purezza ha fatto sì che gli oli venissero impiegati anche per trattare delle evidenze cliniche noi ne abbiamo parlato a livello esperenziale ma la bibliografia ce n'è veramente tanta quindi possiamo abbinare il copaiba con l'incenso se vogliamo andare a trattare le situazioni della pelle come abbiamo detto appunto cicatrici ferite ma soprattutto anche per un effetto antietà la qualità del sonno abbiamo detto la possiamo abbinare con la lavanda mentre per avere più energia possiamo abbinare il copaiba alla menta oppure al limone per potenziarne anche gli effetti depuranti la cosa più bella appunto è che ogni olio viene prodotto nel luogo dove la natura ha voluto che la pianta crescesse spontaneamente e grazie a Endoterra possiamo incentivare un mercato sostenibile e che rispetta non solo il pianeta ma anche le vite che si prendono cura delle piante destinate alla distillazione quindi se questa sera siete qui è perché la maggior parte di voi si sono registrate tramite il nostro link di registrazione per partecipare alle zoom del martedì nel mese di settembre abbiamo parlato degli oli dei fiori della depurazione intestinale del dry brushing una delle tecniche più gettonate adesso tra le ragazze del nostro team e gli oli per i capelli questa è una gatta ok martedì scorso perché per tutte le persone che partecipano agli eventi in zoom quindi quelli in diretta la mia super assistente Federica ha un vero e proprio registro delle presenze e tra tutte le presenze del mese di ottobre nel primo martedì di novembre andiamo ad estrarre il vincitore martedì scorso Barbara ha vinto praticamente l'olio essenziale di di pepe rosa era stato estratto un altro nome però vale la persona che è online quindi mi raccomando se volete partecipare all'estrazione di questi oli partecipate alle dirette rinominate i dispositivi con il vostro nome e cognome e partecipate alla prima diretta del mese dove appunto avete la possibilità di vincere un olio in regalo come ottenere il Copa Iba è in regalo nel mese di ottobre per tutti i nuovi clienti che decidono di sperimentare gli oli nel formato home essentials cioè noi possiamo acquistare gli oli singolarmente il Copa Iba vado a memoria che l'ho acquistato al mente tante volte che dovrebbe girarsi intorno ai 39 euro giusto? Demi se se sbaglio 39 euro un flaconcino Micia vieni qui Micia 40 40 41 adesso ok e 39 è pv perfetto perfetto e mai rimanere da soli in casa con un gatto un attimo ok e allora che cosa è successo? una gattina un po' agitata ribelle una gattina ribelle allora diciamo che il mio gatto si chiama iste e quindi già abbiamo capito fantastico fantastico quindi era lei quindi iste per gli amici e così è affettuosissima e poi trisbrana cioè capito non c'è via di mezzo quindi il copa abbiamo detto che viene sui 41 euro mi ha corretto Grace singolarmente oppure per i nuovi clienti c'è la possibilità di ottenerlo in regalo quindi per il mese d'ottobre tutte le persone che si avvicineranno al mondo degli oli tramite il nostro copanetto di benvenuto family dove gli oli sono in un formato 10 oli base sono in un formato convenienza a 15 euro a flaconcino è possibile ricevere il regalo la miscela Deep Blue Touch quindi la miscela per il dolore versione roll on da mettere direttamente sui punti del dolore mentre per chi desidera utilizzare gli oli base con un formato più grande da 15 ml per una media di 29 euro a flaconcino oltre ad avere il regalo il diffusore il regalo c'è sia la miscela Touch del Deep Blue che 15 ml di Copaiba quindi vuol dire un risparmio in termini di oli essenziali intorno ai 100 euro perché comunque parliamo alla fine del nostro zoom di come acquistare gli oli perché se tutto questo è possibile la partecipazione dei nostri corsi gratuitamente eccetera eccetera è perché doTERRA riconosce il nostro impegno tramite quella che è la condivisione degli oli quindi noi siamo ben felici di accogliervi nel nostro gruppo di supporto gratuito dove tutte le formazioni sono gratuite gli strumenti come Telegram il corso di astrobiologia essenziale eccetera eccetera è gratuito non perché sono la nipote di Zio Paperone ma perché doTERRA comunque ci aiuta a lavorare a riconoscere gli sforzi del nostro impegno mentre per chi come me è già cliente inviando un ordine di 125 punti nel mese di ottobre entro il 15 di ottobre possiamo ottenere in regalo un olio essenziale esclusivo perché doTERRA ci dà la possibilità di acquistare la menta piperita che conosciamo essere un energizzante ci aiuta a la concentrazione o magari per rinfrescare il corpo nei periodi estivi o durante le caldane abbiamo conosciuto la menta dolce buonissima da utilizzare in cucina e a ottobre ci dà la possibilità di completare la nostra collezione di oli essenziali di menta tramite quella che è la menta giapponese una menta che ha delle importanti qualità medicinali diciamo così medicamentose soprattutto per quello che riguarda la digestione la gestione del dolore e il respiro quindi sistema digerente sistema respiratorio e gestione del dolore quindi sicuramente può essere un'ottima idea quella di combinare insieme l'olio essenziale di copaiba insieme alla menta giapponese appunto nella gestione di alcune affezioni del dolore per Laura sì è possibile avere la registrazione io dico sempre che vi mando la mail ma ho scoperto che in realtà vanno i spam quando ci sono troppi link quindi farò una cosa creerò una pagina del mio sito dove c'è la raccolta di tutte le registrazioni così è un unico link dove lì dentro trovate tutti i collegamenti youtube per rivedere le registrazioni perché altrimenti purtroppo finisce spam la mail quando è farcita di link quindi la menta giapponese io non vedo l'ora di provarla si contraddistingue dalle altre menti perché ha per il 95% contenuto di mentolo quindi una chimica molto prevalente nei confronti appunto del mentolo che sappiamo avere anche delle proprietà su alcuni recettori olfattivi e che aiutano proprio il corpo a avere una sensazione rinvigorente vi ricordo che è ancora disponibile a proposito di menta il copanetto con i nuovi prodotti che verranno lanciati nel mercato italiano a giugno 2023 quindi questa è un'anteprima in cui abbiamo la menta super menta che c'ha dentro la menta giapponese la menta romana la menta viverita e un'altra menta che non me la ricordo vediamo se qualcuno è bergamot mint grazie e il bergamot mint invece è una menta calmante quindi è un cocktail di mente molto particolare la tanto desiderata e attesa metapower ovvero la miscela metabolica perché abbatte repentinamente la produzione di grasso soprattutto a livello addominale del fegato il guaiacud che finalmente ho anche imparato a nominare essere un altro albero come il copaiba possiamo dire la cui produzione è orientata prevalentemente alla riforestazione di alcune regioni non mi ricordo di dove e la salvia spagnola non so quanti di voi non so quanti di voi già hanno acquistato questo kit in esclusiva che è disponibile sia per chi già è cliente che se lo prendiamo adesso prima del 15 abbiamo in regalo anche la menta giapponese ma anche per i nuovi iscritti quindi aggiungendo la quota di iscrizione è possibile ottenere altri oli in regalo come abbiamo appena detto quindi per chi già l'ha acquistato questo copanetto probabilmente ancora non vi è arrivato giusto? questo perché quando noi andiamo a mettere il kit nel carrello c'è una scritta che dice guarda che la spedizione non ti arriverà in due giorni come al solito ma impiegherà un po' più di tempo perché perché ogni volta che dotera ci lancia dei prodotti in esclusiva nell'arco di due tre settimane spariscono quindi hanno cambiato metodo prima inviamo gli ordini loro fanno l'approvvigionamento nel magazzino di Milano e poi ce lo distribuiscono quindi praticamente avremo bisogno di un po' più di tempo per riceverli ma questo ci permetterà di riceverlo perché altrimenti già sarebbe andato in esaurimento lo puoi trovare andando sempre su modifica ordine LRP e vai su ricerca prodotto e scrivi super cioè quando scrivi super e fai invio nella ricerca il risultato ti entra questo cofanetto ti da questo cofanetto e vi ricordo per chi sarà con noi che ci sono due appuntamenti chi vive in centro Italia diciamo così sabato siccome io vorrei incontrare tutti abbracciare tutti stare insieme a tutti ma purtroppo non riesco ad andare dappertutto ho deciso di fare il contrario ovvero aprire le porte di casa tutta la giornata di sabato 15 quindi dalla mattina fino al tardo pomeriggio chi vorrà potrà essere mio ospite a casa mia qui a Folignano vicino ad Ascoli Piceno sono felicissima che anche Fede e Franci e altri ragazzi di Roma ci saranno quindi io spero di incontrare non solo le persone che già conosco ma anche chi ancora non ho incontrato fisicamente quindi le porte di casa sono aperte se volete portare qualcosa da mangiare lo mangiamo insieme se volete portare qualcosa da bere lo beviamo insieme l'occasione è stare insieme appunto quindi poi ovviamente ci saranno tante di noi cioè diverse quindi una chiacchiera tira l'altra possiamo anche approfondire il mondo degli oli ma non sarà un evento sugli oli sarà un evento per stare insieme conoscerci preparare qualcosa da mangiare bere qualcosa di caldo e così via visto che comunque ci sono anche le mie amiche di Roma ci sta che potremmo fare una piccola gita anche nel centro storico di Ascoli perché se no cioè sperando che il tempo regga quindi vi aspetto a casa scrivetemi scrivetemi chi ci sarà perché non vorrei che già a casa è semi deserta no però comunque diciamo che non faccio grandi spese giusto un attimo per regolarci o vi portate da mangiare e va bene oppure avvisatemi così un attimo mi organizzo anch'io mentre domenica sedici Marco il nostro Marco ci ospiterà di nuovo nel suo salone per conoscere e annusare gli oli essenziali e scoprire anche come utilizzarli per il benessere dei capelli e ovviamente per chi non riuscirà ad essere qui ad Ascoli sabato comunque vi aspetto a dicembre a Gran Canaria quindi quindi se volete partecipare anche questo evento è gratuito qui parleremo solo ed esclusivamente di oli essenziali sarà un vero evento di formazione della durata di tre giorni ma io vi consiglio di arrivare il 7 quindi dal 7 all'11 durante il periodo delle festività dell'Immacolata potete prendere l'aereo venire qui a Gran Canaria al caldo nelle più belle spiagge delle Canarie per stare insieme in mezzo alla natura e parlando di oli essenziali quindi top top se volete farvi un regalo anticipato a Natale vediamoci a Gran Canaria ovviamente l'evento è gratuito l'unica cosa che non è gratuita sono le uniche cose non gratuita sono il volo aereo e il pernotto comunque abbiamo trovato un resort che ci fa mezza pensione quindi dovremmo pensare solo al pranzo ma saremo in giro quindi vedremo cosa da facendo e sarà una bellissima vacanza quindi anche Barbara sta con noi ha scritto in chat a Gran Canaria quindi non vedo l'ora e grazie a tutte le persone che hanno voluto condividere la propria esperienza in questo caso col Copaiba ma che in ogni nostra Zoom riescono a donarci qualcosa di nuovo quindi i nostri eventi servono per conoscere gli oli tramite magari quello che quelli che sono i testi ma soprattutto è quello che è la più grande ricchezza del nostro gruppo è la nostra esperienza le nostre singole esperienze che mettiamo in un unico posto non so come definirlo che è fruibile per per tutti quindi voglio ringraziare tutte per la vostra estrema generosità disponibilità non lo faccio mai ma ogni tanto è doveroso ricordare quanto siete estremamente fondamentali e indispensabili e uniche speciali e generose e tutto quanto quindi io mi sento estremamente fortunata di far parte di un gruppo con voi e ci vediamo per chi vorrà e tra l'altro devo ringraziare Doterra soprattutto per questo perché senza gli oli io non avrei mai potuto incontrare né Anna né Manuela a parte che con Anna già ne becco Manuela Rita Barbara Fede Franci Maurizia tutte quindi sicuramente questa è la cosa più bella quando iniziamo a conoscere gli oli è bello usarli ma è bello soprattutto condividerli perché da una passione può nascere qualcosa di unico bellissimo quindi grazie ognuno di voi per esserci sempre e ci vediamo martedì martedì sorpresa parleremo degli oli dei 10 oli base sorpresa perché sarà il 18 io sarò in aereo non so se riuscirò ad atterrare in tempo speriamo di sì ovviamente però sicuramente è più difficile per me organizzare la zoom quindi ci sarà un ospite speciale e quindi vi lascio nelle mani del mistero diciamo così e di Fede che come al solito sarà il massimo per aiutare ognuno di voi ma anche la persona che terrà la zoom assolutamente sì quindi se qualcuno di voi volesse organizzare una propria zoom per raccontare una propria esperienza o qualsiasi cosa che può essere utile a tutto il gruppo sappiate che c'è Federica che è super brava vi seguirà in tutto quindi non sarete mai sole come io non sono sola perché so che c'è lei che mi dà la mano e ci vediamo martedì va bene? Grazie a tutte grazie grazie a tutti grazie buonanotte grazie grazie a te ciao grazie ciao ciao buonanotte a tutti buonanotte a tutti ciao a tutti ciao a tutti ci vediamo domenica per chi viene ciao 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 buonanotte buonanotte buonanotte